Papa Francesco ha incontrato lunedì in Vaticano il Presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassun Guesso. Durante i colloqui è stato ricordato il positivo contributo che la Chiesa Cattolica fornisce alla società congolese, in particolare nel campo assistenziale ed educativo e le buone relazioni esistenti della Santa Sede della Repubblica del Congo. Sono state passate in rassegna anche diverse questioni che interessano l'Africa centrale, tra cui alcune situazioni di carattere umanitario, con particolare attenzione all'assistenza dei profughi e dei rifugiati, nonché il problema della sicurezza nella Regione, anche il rapporto alla crescita delle tensioni dovute ai fondamentalismi.